Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kirin984. Oggi andremo a vedere gli annunci a sorpresa che J-Pop Manga ha fatto sul suo profilo Instagram il primo gennaio di quest'anno, quindi andando di fatto a fare i primi annunci manga del 2020. Se devo essere onesto non c'è molta roba che mi interessi, anzi davvero poca, però andiamo a vedere subito. Il primo annuncio riguarda un romanzo, ovvero La Voce delle Stelle di Makoto Shinkai, una light novel che vedremo a marzo di quest'anno, finalmente la light novel che racconta la storia d'amore tra Noboru e Mikako. I due ragazzi protagonisti saranno separati da un'importante missione nello spazio. Mikako dovrà infatti partire per perfezionare l'utilizzo dei Tracer, speciali robot progettati per la lotta alla popolazione aliena dei Tarsiani. I giovani cercheranno strenuamente di colmare l'enorme distanza che li separa con l'unico mezzo che rimane, la posta elettronica. Ma se all'inizio i messaggi venivano recapitati in poche ore, con il tempo l'attesa sarà sempre più lunga. Giorni, mesi, anni. Riusciranno a rimanere uniti? Poi un'altra uscita legata al nome di Makoto Shinkai, ovvero l'artbook di Your Name. Arriva in Italia l'artbook di Your Name. Your Name è la storia di Mizuo, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, che vivono in sogno una la vita dell'altro. Lasciandosi dei messaggi per il risveglio, inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce, e si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno. A marzo vedremo una serie in tre volumi, che saranno disponibili anche in box, ovvero Dangeki Travelers, di Hajime Zegawa e Toshinori Okazaki, dall'autore di Garei e Tokyo Esp, una fulminante miniserie piena di azione e misteri. Il liceale Kiriharu è dotato della capacità di immagazzinare nel suo corpo l'energia elettrica e di rilasciarla con effetti devastanti. Nonostante cerchi di nascondere questo potere, un giorno nella sua classe si trasferisce una ragazza enigmatica con la sua stessa abilità, legata a un'organizzazione segreta con mire poco chiare, benvenuti in un nuovo mondo di combattimenti spettacolari, superpoteri e rivelazioni sorprendenti. Ad aprile vedremo Cast Heaven di Chise Ogawa, cinque volumi in corso, un altro Boys Love dall'autrice Chise Ogawa. Si sa, il liceo è governato da regole crudeli e arbitrarie, non quelle dell'organizzazione scolastica, presidi e professori, bensì dalle gelosie, le invidie e la lussuria di chi frequenta l'istituto. A Zusa è da sempre tra i ragazzi più popolari della scuola, ma un giorno scoprirà che non può durare per sempre. Poi Kota Oide di Takashi Murakami, due volumi completo, per questo non è stata ancora annunciata una data precisa, come per l'artbook di Your Name, dall'autore di Il cane che guardava le stelle, un'altra emozionante storia d'amore e fiducia tra l'uomo e il suo migliore amico a quattro zampe. Kota Oide racconta le vicende quotidiane di una famiglia giapponese e del suo cane, Kota. A maggio 2020 vedremo Mêmesis di Takuya Yagyu, una serie in quattro volumi disponibile anche in box. Dopo l'eroe è morto, una nuova miniserie comedy fantasy con personaggi assurdi e combattimenti spettacolari. Kijira e Ash, pro di guerrieri, hanno giurato vendetta contro l'eroe Leon, che li ha abbandonati per delle compagne di avventura ben più attraenti. E quale modo migliore per vendicarsi che affrontare un temibile esercito demoniaco per dimostrare il loro valore e la forza dell'amicizia? Vedrete che le imprese di questo sfortunato duo di cavalieri, accompagnate da una procace principessa e un ninja erotomane, verranno narrate per l'eternità. E infine, un'opera che vedremo a luglio 2020, ovvero Rengoku no Karma, di Shuni Rose e Negi Aruba, completa in cinque volumi, disponibili anche in box, dall'autore di Quintessential Quintuplets, una miniserie completa, dal tratto morbido e dai temi forti. L'esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno, si convince che una vita più felice è possibile. Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele, che lo spinge al suicidio e non sembra bastare. Risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte. In realtà Rengoku no Karma non era l'ultimo annuncio, perché ce n'era uno che mi era sfuggito prima, ovvero The Shadow Out of Time, di Go Tanabe, che è un adattamento dell'omonimo romanzo di H.P. Lovecraft. Il manga racconta le vicende di Nathaniel Wingate Pesley, professore di economia politica presso la Miskatonic University. Il protagonista, a seguito di un'amnesia, sospetta di essere stato posseduto per diversi anni da un'entità aliena di nome Iteans. Grazie alle sue ricerche sulla storia antica, scoprirà che non è stato il primo a vivere questa esperienza. E questo sicuramente è un manga che mi interessa, come gli altri adattamenti di Go Tanabe sui romanzi di Lovecraft, ma che ancora devo leggere, intendo che proprio devo leggere già a partire dal primo, quindi sicuramente non prenderò questo, anche se in realtà sono tutte opere scollegate fra di loro. Però mi piacerebbe recuperarle per come sono state pubblicate cronologicamente in Italia. E questi erano appunto gli annunci fatti il primo dell'anno da parte di J-Pop Manga. Per quanto mi riguarda, quello che è più in assoluto di mio interesse è proprio l'ultimo annuncio, ovvero Rengoku no Karma, che sembra avere sicuramente una trama abbastanza interessante e anche dei disegni molto particolari e originali, che mi hanno subito attratto vedendo le prime tavole. E poi credo di fare un pensierino anche su Mimesis, nonostante non abbia letto L'eroe è morto, anzi fatemi sapere voi qui sotto con un commento se vi è piaciuto, se lo avete letto e se lo consigliate. Anche questo mi sembra avere dei disegni interessanti, seppur la trama non sia così originale. E sicuramente darò uno sguardo anche a Kota Oide, dato che mi era molto, molto piaciuto Il cane che guardava le stelle, un'opera sicuramente toccante. Per quanto riguarda invece le altre opere, non mi è sembrato di trovare nulla che potesse attirare particolarmente i miei gusti, ma Koto Shinkai non mi piace per niente come autore. Come saprete già se mi seguite, non mi piacciono per niente i suoi film, nonostante sia così tanto decantato come il miglior regista d'animazione giapponese contemporaneo, quindi non sono sicuramente interessato alla light novel, tantomeno credo che possa interessarmi gli artbook. Mentre non hanno destato particolare interesse in me gli annunci di Dengaki Travelers e Cast Heaven, nonostante poi ovviamente al momento dell'uscita sicuramente darò un po' un'occhiata a tutto. Fatemi sapere invece voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi annunci e cosa pensate di prendere. Vi ricordo che passando dal link qui sotto potete fare i vostri acquisti su Amazon dandomi una piccolissima percentuale grazie alla mia affiliazione che per voi non cambierà assolutamente nulla al momento dell'acquisto finale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e condividetelo sui social. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!